Sono giunti anche i mezzi aerei stamani per domare l'incendio divampato ieri sera in via Monte Ortigara, col di Rodi, vicino la località Gozzo Superiore. Gli interventi di spegnimento sono proseguiti infatti a terra tutta la notte. Imponente è lo spiegamento di uomini per fronteggiare l'emergenza. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, del distaccamento di Sanremo e quelli del comando centrale di Imperia, mobilitate le squadre di protezione civile di Sanremo e delle città vicine. Il rogo ha bruciato il bosco e la macchia mediterranea mentre una densa colonna di fumo si è alzata in cielo visibile da tutta la città. L'area interessata dalle fiamme inoltre era difficile da percorrere. Spegnere l'incendio non è stata un'impresa semplice, soprattutto considerando anche il vento che poteva far valicare il fronte fuoco. La strada a Monte Ortigara è stata chiusa al traffico veicolare per consentire lo spegnimento dell'incendio in sicurezza, ma scongiurato così anche il pericolo che il rogo si avvicinasse troppo alle abitazioni. Molti curiosi che si sono avvicinati per osservare le fiamme impazzite.